Pesaro, 12 vittorie consecutive, primo posto con un eloquente più 6 su una smarrita Acqua e Sapone Unigrosse che bissa l'andamento di Coppa. Doppio vantaggio e Polari-Monta avversaria, 2-3, anche se stavolta con la complicità negativa dell'espulsione di Misael. Addio prima piazza con la quarta sconfitta interna, particolare e curioso, nessun cappò lontano dal palarigopiano, contraddizione questa da interpretare. Rammarico per una squadra che pure ha segnato 136 reti ma che in difesa ha subito troppo, anche stavolta mentre sul fronte marchigiano il solito Miarelli ha fatto spesso la differenza, specie nel finale. Assente Mammarella, ma Ricordi non c'entra, anzi dispiace il meritato 2-0 che è l'uso, poi la firma doppia dell'ex, uno dei tanti, De Oliveira, un pesaro in crescendo che ha sfruttato marpionamente e con saggezza pilotata tutte le opportunità offerte dalla gara che ha preso la piega peggiore per gli abruzzesi, ora definitivamente secondi e con l'ultimo, in influente turno a Catania sabato 1 maggio, poi playoff che potrebbero proporre il Matera in attesa però dell'ultimo turno. Non bisogna dunque mollare, evitando questo sì, ingenuità che non c'entrano con un roster di tale qualità e magari una virgola di buona sorte che non guasta mai.